Il prossimo pezzo si chiama Tata. Questo pezzo nasce da un testo della Babagatita. È il quindicesimo capitolo. È un estratto e noi l'abbiamo musicato in questo modo. Tata è l'albero cosmico, l'albero con le radici verso l'alto e le foglie verso il basso. Tata. Sì, chi parla? Ecco chi parla. Sì, 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 chi parla. , 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 chi parla. Chi parla. , 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 chi parla. Chi parla. , chi parla. Chi parla. Chi parla. court'è! Dai, parti! Recidi quest'albero sagro, Con forza quaggiù radicato, Con l'arma tagliente, Il distacco Epponiti in cerca del luogo dal quale una volta raggiunto Non più si ritorna nel mondo Epponiti in cerca del luogo dal quale una volta raggiunto Non più si ritorna nel mondo 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 Non più si ritorna nel mondo